Prosegue l'opera del progetto Vita, iniziativa congiunta del periodico Il Valdarno e del Calcit per l'installazione di defibrillatori in aree strategiche del territorio. Da sabato 19 dicembre la zona dell'Istituto Vasari di Filine e della stazione ferroviaria è cardioprotetta. Lo scopo è quello di dotare il territorio di 12 defibrillatori. Questo è il secondo defibrillatore che mettiamo. Nel 2016 ci saranno tante altre installazioni per arrivare alle 12 previste dal progetto Vita. Oggi è un momento importante perché soprattutto abbiamo deciso di mettere il defibrillatore all'esterno di questa struttura in modo tale che i giovani e tutti gli studenti creino una sorta di tutela a questo strumento salva vita. E quindi diamo per primi la fiducia a loro di portare avanti questo progetto. È stato preparato un piano di addestramento del personale. Si è anche pensato ai giovani. I docenti del Vasari a loro spese addirittura hanno sostenuto il corso. Quindi siamo di fronte ad un impegno civile notevole. Questo secondo apparecchio acquistato grazie alle lotterie interne del calcio e al contributo dell'azienda Vanity Air di Incisa è stato volutamente collocato in una tecca riscaldata all'esterno del Vasari poiché questa zona rappresenta un punto di aggregazione e di transito per migliaia di persone. Siamo orgogliosi di aver fatto questa scelta e speriamo che come noi ci vengano dietro tante aziende per poter aiutare persone e salvare la vita a tanti. Ha visto anche impegnati i nostri docenti in un corso di formazione specifico per l'utilizzo del defibrillatore che quindi anche per noi è un aspetto estremamente importante perché coinvolge la comunità scolastica. Ci auguriamo anche in futuro di aprirlo ai nostri ragazzi che seguiranno un percorso di attività proprio formativa in questo senso per avere anche un concreto aiuto nel caso, e ci auguriamo che non capiti mai, di un bisogno dell'utilizzo di questo strumento di soccorso per le persone in difficoltà.